Al nuovo appuntamento con libero evento live streaming, siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda gli eventi in streaming, poi andremo da luglio in presenza e partiremo in presenza con molti appuntamenti, a breve saranno online tutti gli autori che saranno con noi quest'anno e anche le località perché ci sono delle sorprese, ci sono dei nuovi paesi che sono entrati a far parte del circuito. Io prima di partire con questa nuova intervista volevo ringraziare tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte di questo festival, che sono tantissimi, che ci consentono di andare live, ma ci consentiranno poi di essere in presenza con le nuove direttive, con le nuove restrizioni come abbiamo già fatto l'anno scorso. Quindi il mio ringraziamento va a loro, in modo particolare a Maura Porru che dirige da dietro le quinte, coordina gli autori e la possibilità di poter poi tutti gli anni rinnovare questo appuntamento. Quest'anno ricordo la decima edizione che festeggeremo con tutti voi, vi faremo sapere dove e quando, quindi restate sempre in contatto con il sito liberevento.it oppure sulla pagina Facebook di Liberevento. Detto questo, io ho l'onore di presentare una autrice, una giornalista, che ha, come posso dire, più che il piacere è diventata una consuetudine per me, e ne sono felice perché io ho rincorso la conoscenza di questa scrittrice, di questa autrice, di questa giornalista per anni, per non dire per decenni. Finalmente ci siamo incontrati e parleremo anche di questo durante questa intervista. Chi vuole, ricordo, potrà fare le domande all'autore di oggi e poi le proporremo all'ospite. Benvenuta a Manuela Pompas. Oh, grazie Claudio, è veramente un piacere, perché è un'amicizia la nostra. Esatto. Sì, allora, io volevo proprio iniziare da questo, nel senso che io ti ho rincorso per tanti anni perché lo voglio anche far vedere. Io nell'89 comprai questo libro perché vidi la Manuela Pompas in televisione intervistata da Maurizio Costanzo quando si facevano quelle trasmissioni mattutine. Io la guardai, mi interessai questo libro, lo comprai a Firenze e allora cercai di mettermi in contatto con Manuela. All'epoca non c'erano i computer, non c'erano, stiamo parlando degli anni, fine anni Ottanta, non c'era la possibilità di rintracciarla agevolmente. Quindi le scrissi una lettera perché rintracciare un indirizzo. Comunque, senza lì a stare a raccontare il che e il come, dopo circa dieci anni, finalmente siamo riusciti a metterci in contatto. La mia prima domanda è, Manuela, vorrei parlare del caso perché tutti dicono mi succede questo, per caso mi è successo questo, ma noi sappiamo che il caso non esiste. Intanto l'ha detto Jung, forse non è stato neanche il primo. Poi Celestino, Redfield, nella profezia di Celestino, ha dedicato un capitolo al fatto che il caso non esiste. Io non credo che esista il caso. Voltaire diceva che il caso è la maschera che Dio si mette quando non vuole essere riconosciuto. Quindi prima di Jung andiamo a Voltaire e chissà, forse anche ai greci, agli indiani, perché le nostre vite, nelle cose importanti, sono tracciate. Prima di nascere, io penso, io la racconto così in modo un pochino favolistico, noi firmiamo un contratto che ci dice, bene adesso scendi sulla terra e farai in questa famiglia, farai questo, questo e questo. e ognuno di noi, avevo fatto un articolo quando scrivevo in un femminile, che nella Lila ci sono dei registi che ci fanno recitare e noi ci incontriamo a seconda del copione che ci viene presentato. Allora il caso qualche volta esiste, cioè stamattina io ho preso il pane in un banco piuttosto che in un altro e questo ovviamente non è una cosa che incide nella mia vita, a meno che il pane non sia avvelenato e allora io devo stare in ospedale, allora lì c'è una motivazione. Ma nelle conoscenze tra di noi non possono essere casuali. C'è Newton che è un psichiatra americano che ha scritto dei bellissimi libri sulla reincarnazione perché anche lui fa past life regression, regressione di vite passate, che dice che noi apparteniamo a clan di anime, quindi tutti noi abbiamo una serie di persone e in primis i genitori, i figli, gli amanti, i mariti o le smogli, cioè le persone importanti della vita noi e ma anche le amicizie le rincontriamo. Poi in alcune vite abbiamo un'altra serie di persone più o meno importanti che possiamo ritrovare ma spesso ci conosciamo già e spesso ci incontriamo per portare avanti un percorso. Claudio, ho fatto una cavolata, devo collegare il computer al... scusa. Sì. Ho fatto una cosa che non si fa ma si sta scaricando, scusami molto. Non c'è problema. Sì, sì. Ho fatto una cosa che... Ormai si è diventata tecnologica. Sì, mi avrebbero bocciata in televisione. Per cui noi in realtà incontriamo delle persone con cui condividere delle esperienze, positive o negative. Nel nostro caso non c'è una grande cosa da condividere, cioè non dobbiamo farcene bene né male ma è un'amicizia professionale, chi lo sa e poi vedremo. Tu, per esempio, a me hai fatto scoprire Calasetta, che non conoscevo, e Sant'Antioco e mi hai fatto scoprire una tomba dei giganti favolosa che mi ha... dove ho avuto un'esperienza commovente di collegamento con la Sardegna. Ti ricordi? Sì, a Sant'Adi. Favolosa, insomma. Tu mi hai permesso di entrare nell'anima della Sardegna. Se vuoi lo racconto. Sì, sì, assolutamente, anche perché è molto importante questo. Beh, diciamo che è un'allucinazione, però io l'ho vissuta... per me è stato bellissimo, perché con Claudio siamo stati a questa tomba dei giganti, a Saccomanno. No, a Barrancumanno, lì vicino a Sant'Adi, sì. E io, che dove non si può entrare dentro la tomba, perché c'è pericolo di caduta a sassi, e io, come faccio spesso, perché sono un po' una visionaria, o una sognatrice, come volete, mi sono concentrata. E a un certo punto c'è un cerchio di pietre, e in tutte le culture il cerchio di pietre è un cerchio di magico, un cerchio di protezione, un cerchio dove si fanno i riti, lo fanno i pelle rossa, lo facevano i celti, c'è in tantissime culture, perché il cerchio rappresenta il divino, rappresenta l'universo, quindi è un simbolo molto preciso. Mi sono messa al centro di questo cerchio e mi sono concentrata. E improvvisamente mi sono vista circondata da degli esseri primitivi, con le casacche di pecora, con i denti neri brutti, vestiti male, con le barbe, i capelli, così. Ma io non mi sono spaventata, perché non erano minacciosi, erano semplicemente come, chissà, delle presenze, delle memorie di quel luogo. E a un certo punto sul muretto c'era seduto un signore, invece con un signore, un contadino sembrava, però con i pantaloni e la giacca, quindi più moderno, che mi ha detto, figliola, se vuoi entrare in Sardegna bacia la terra. E io non avevo niente da perdere, mi sono inchinata, ho baciato la terra, e è sparito tutto. E devo dire che da quel giorno io vengo in Sardegna come se fosse casa mia. Vengo accolta, ho un sacco di amicizie in giro per la Sardegna, ed è come se fosse stata accolta dallo spiritus loci. Diciamolo così? Ok. Comunque è stato, ti devo ringraziare, è stata un'esperienza molto positiva. Ma sai, è uno dei tanti luoghi mistici che ha la Sardegna, che è da molti di noi dimenticata, questo lo posso dire, invece dovremo andarci più spesso perché lì si può in qualche maniera anche recuperare la nostra energia, come hai fatto tu. Guarda cosa hanno scritto, che sono un ex mamutona. Mamutona, sì, sì. Vabbè, ormai fai parte. Esatto, esatto. Sono un'anima universale, sono un'anima che si trova a casa in tante parti del mondo. Esatto. Visto che tu ti occupi, chiaramente, di tantissimi argomenti, ma ciò che riguarda specialmente il sovranaturale, ipnosi regressiva, insomma, tu ricordiamo che hai fondato un'associazione che si chiama Karma News e hai anche un sito che si chiama, che è rintrasciabile a karmanyous.it. Non è un sito, è un magazine. È un magazine, scusami. No, non è un magazine. Un magazine. Esatto, che si chiama karmanyous.it dove tu aggiorni e dove metti tutta una serie di notizie che riguardano proprio quel settore. Io, ecco, siccome tu ti occupi di questo, il libro, il primo che ho comprato, Vivere e poi, che non c'è più, quindi questo è proprio un reperto che tengo caro con la tua firma, vuole parlare dell'aldilà e come si comunica con l'aldilà, perché tu in questo libro ne parli. Allora, tu devi ricordare che noi usiamo meno del 10% del nostro cervello. Einstein, secondo alcuni studi americani, fatti decenni fa, usava il 14%. Immagina quando ne useremo il 20%, che è pochissimo, è un quinto. Allora noi abbiamo delle facoltà e delle possibilità che non usiamo, anche perché non ci vengono insegnate. Io dico che siamo nell'era del cervello sinistro, dove a scuola si impara tutto ciò che è razionale e talvolta vengono castrate le facoltà intuitive, immaginative, creative in alcune scuole, per fortuna non da perdere. Allora, la comunicazione con altre dimensioni avviene attraverso, chiamiamola la parte intuitiva, medianica, che nella cultura indiana è legata a questi due punti, alla pineale e al chakra della corona, alla fontanella, che sono i due punti che ci mettono, secondo la filosofia indiana, in contatto con l'invisibile. Allora, ci sono delle persone che nascono con dei doni particolari. In Sardegna ce ne sono tantissime, magari un po' nascoste, magari che non si fa in pubblicità, ma ci sono e che persone che magari anche intuitivamente sentono. E oggi sono tantissimi bambini che hanno questo tipo di percezione, che può passare attraverso la vista, quindi la visione. Immaginate, andate con la mente al film Ghost, dove Schweick compare come lo stesso corpo che aveva con una figura, come un ologramma, potremmo dire. Ecco, i veggenti vedono anche i defunti o i maestri o i santi, i perimistici, come se fossero qui, come se fossero delle immagini che appaiono. E invece qualcuno sente proprio la voce che guida la persona. E spesso, e questo sta aumentando, i nostri carici compaiono in sogno. E secondo alcune teorie, siccome noi in sogno siamo in uno stato modificato di coscienza, che può essere sonno fisiologico, dove noi non siamo assolutamente consapevoli, o esistono i cosiddetti sogni lucidi, dove il corpo dorme, ma la mente è consapevole ed è sullo stesso piano dei defunti. Cioè è nell'invisibile la nostra anima. E quindi chi è passato nell'altra dimensione può comunicare con noi attraverso il sogno in maniera molto semplice. Ci sono dei sogni dove sogniamo la mamma, il papà, il compagno, la compagna che non c'è più, che potrebbero essere sogni psichici, dove io lo sogno perché mi manca. E allora la mia psiche mi restituisce l'immagine della persona che ho amato, della persona con cui ho avuto un rapporto affettivo, ma è un sogno psichico, quindi non è reale, è un sogno che pesca nel nostro subconscio. e poi invece ci sono dei sogni dove noi incontriamo veramente quelle anime che magari ci devono dire che ci sono vicine o ci devono portare un messaggio. Io di queste esperienze ne ho avute, non tantissime, ma ne ho avute. per esempio la più recente è stata con la mia mamma. La mia mamma se n'è andata nel 2003, quindi già un po' di anni fa, non mi ricordo più se è il 2003, 2013, vergogna, pompa e svergogna. Comunque se n'è andata. Vabbè, tu ci hai insegnato una volta che il tempo non è uguale per tutti, è relativo. un po' di tempo e non ho più memoria, quindi vergognissima, direi 2003. E quando lei se n'è andata, lei ha avuto un ictus, è caduta per terra, è stata ricoverata in ospedale, non ha più preso coscienza. E il secondo giorno di coma profondo, io me la son trovata in camera da letto, con la faccia bianca come le maschere giapponesi, come se fosse la bianca, spaventatissima. E quando ero stata a trovare la giorno prima, tremava nella parte che non aveva preso le mie paresi e il medico aveva detto che era un riflesso condizionato, era una cosa nervosa. Allora io, il giorno dopo questa visione, ho fatto fare un gruppo di reiki, di luce, di mandare l'energia e il giorno dopo lei non tremava più ed era addirittura sorridente. E io credo che come può succedere con questo tipo di morti, che lei non avesse capito di essere morta e quindi era spaventata perché non capiva dove si trovava. Io l'ho vista in un tunnel con le luci stroboscroppiche che giravano e quindi lei era disorientata. E dopo è venuta a dormire a casa mia dopo che è trapassata per un bel periodo. E io avevo un figlio che aveva qualche problema di studio, di timidezza, insomma era un ragazzino con qualche problema che per fortuna ha superato e lei è rimasta in casa mia, in casa nostra, fino a che lui non ha trovato la ragazza giusta che adesso ha sposato e che hanno un bambino. e io sono addirittura sicura che gliel'abbia fatta incontrare lei. Lui l'ha trovata chattando, si sono incontrati in piazza del Duomo a Milano e non si sono più lasciati. Cioè colpo di fulmine hanno costruito una vita insieme e io sono sicura che sia stata la mia mamma. Così come mio padre ha aiutato me che era una ragazza un po' sbandata, è una parola troppo forte, un po' vivace, un po' problematica e io ho avuto dei doni dall'aldilà dopo parlo della reminiscenza, ho avuto dei doni nell'aldilà incredibili perché loro ci aiutano. Le persone che amiamo non solo non ci lasciano mai ma ci rimangono vicini non dalla mattina alla sera però siccome di là non c'è lo spazio o tempo possono venire quando vogliono e a volte riescono anche a aiutarci. Ti racconto un esempio. Allora, io non avevi soldi per comprarmi la macchina gli ho chiesti in prestito al mio ex marito che mi ha prestato 20 milioni stiamo parlando di tanti anni fa e io pensavo con i proventi dei libri che però ovviamente non sono tanti col mio lavoro di riuscire a restituirle e non riuscivo mantenevamo il figlio nelle scuole private insomma avevamo tante spese io non ho messo non uscivo a metterli da parte. Una mattina mi sveglio e sento che avrò un incidente e per una settimana io andavo in ufficio e avevo paura che uscisse qualcuno dalla mia sinistra ma da uno stop quindi intorto cioè io avevo il diritto di passare e non succede niente e quest'idea dell'incidente io ce l'avevo solo andando la mattina. un giorno esco dall'ufficio passo con un verde rallentando perché avevo sempre l'idea che uscisse da finestra la macchina e sono stata investita in pieno da una giardinetta che è passata col rosso da sinistra. In quel momento passava la polizia che ha fatto il verbale quindi lei non ha potuto dire che era giallo e io ho preso 10 milioni dalla sua assicurazione e 10 milioni dall'assicurazione ai giornalisti e non mi sono fatta niente e ho detto va bene allora avete anche un ragioniere di là però se avessi preso 10 milioni e basta non avrei pensato a un aiuto ma 20 milioni io ho preso gli ho restituiti a mio marito ma io sono sicura che mi abbiano aiutato come aiutano tanto a volte ci aiutano anche dandoci un calcio nel sedere se noi non seguiamo la strada giusta a volte io sono finita anche sotto una macchina e penso che è stato l'inizio del mio cammino per cui di là ci aiutano ma non come vogliamo noi ci aiutano per farci camminare sul cammino di crescita sì tu hai parlato del sogno chiaramente possiamo dire poi tu mi confermerai o meno che il sogno praticamente è una porta che ci consente di andare o pur lo meno loro a visitarci però io volevo chiederti un'altra cosa per quanto riguarda un libro dove tu hai scritto intitolato siamo tutti sensitivi allora durante il sogno le persone comuni quelli che come dici te non riescono in qualche maniera o hanno dimenticato come si fa e in sogno possono in qualche maniera mettersi in contatto mentre ci sono queste persone che hanno delle doti che ricordano e che sviluppano e che riescono a mettersi in contatto anche durante il giorno insomma oppure quasi sempre però tu nel libro scrivi siamo tutti sensitivi è il mio primo libro del 70 che l'ho venduto ancora oggi è un long questo è ancora hai le copertine no no va bene va bene questo è un long è un green è un libro che non è mai morto è una cosa che io pensavo anche da piccola anche se sapevo poco di questo mondo e ho sempre pensato che attraverso gli occhi noi potessimo leggere nella mente delle persone ma lo pensavo senza sapere niente era un probabilmente era una memoria di una vita passata e lo penso tuttora noi abbiamo tante facoltà però è come per la ginnastica dovremmo allenare il nostro cervello e le nostre capacità perché se io guardo tutto il giorno la televisione guardo il calcio tutto il giorno o non so vado al bar con gli amici a giocare a boccette dove non c'è niente di male ovviamente ma non faccio niente per attivare la mia le mie capacità e cosa il mio cervello deve essere attivato sai Claudio chi ha delle doti telepatiche anche se non fa niente i giocatori d'azzardo hai mai visto giocare a un tavolo di poker? sì sì sono delle persone che senza sapere che sono doti sentono le carte le carte che arrivano e sanno se hanno in mano qualcosa di buono o no o se l'avversario ha qualcosa di buono e chi gioca spesso ha la percezione spesso eh perché poi c'è chi si rovina invece col gioco per cui se noi insegnassimo ai bambini come un gioco all'asilo all'elementare dopo i quattro anni direi cinque sei anni prima che subentri la parte razionale del cervello che entra a sette anni eh faremo delle scoperte terribili anzi pare che in Cina e in Russia ci siano dei centri dove hanno i bambini speciali gifted come li chiamo io bambini per allevar per avere un allevamento di sensitivi è una notizia che non sono mai riuscita a controllare a verificare ma l'ho sentito dire da più persone se noi ci mettessimo invece di fare dieci piegamenti al giorno a fare dieci esercizi al giorno di telepatia la potremmo sviluppare gli astronauti che sono andati sulla luna hanno fatto tecniche di telepatia con le carte Zener che sono cinque carte con cinque simboli diversi semplici il quadrato il cerchio la stella le onde in questo momento non mi ricordo più il cerchio mi ricordo più il quadrato e facevano esperimenti terra luna terra terra spazio per vedere se azzeccavano le figure perché questo serve al controspionaggio che ha sempre usato i sensitivi i servizi segreti usano i sensitivi per sapere nei tempi della guerra fredda dove per esempio c'erano le basi missilistiche segrete lo facevano in Russia lo facevano in America ma noi potremmo svilupparlo hai parlato di poteri di bambini o di persone che hanno queste doti magari neanche lo sanno io vorrei trattare un argomento che ti sta a cuore che so che stai anche trattando in qualche maniera che sono i bambini albini perché molti non sanno non so niente dei bambini albini no l'avevamo parlato una volta di bambini albini indaco si scusami dei bambini indaco ha detto che stavi trattando questo argomento vorrei che tu ne parlassi perché non molti sanno chi siano allora io ho un libro nel cassetto dove ho già scritto 200 pagine da lì fermo da qualche anno i bambini indigo child questo nome bambini da poi vien dall'america perché una volta una sensitiva una veggente ha visto in una bimba che le avevano portato per curarla di non mi ricordo cosa che aveva Laura Laura è il nostro campo elettromagnetico che è in tutto il corpo e ha delle frequenze è un campo noi siamo dentro dei campi energetici ma un veggente vede le frequenze sotto forma di colore e i bambini le persone sensitive ma anche gli adulti hanno il viola che è il colore di questo che è il colore della pineale e che rivela delle capacità intuitive è il colore dell'intuizione e sono tanti questi bambini però per esempio io avevo un figlio avevo perché adesso lui ha chiuso queste facoltà per esempio lui da bambino vedeva il mio papà girare per casa e in casa mia non ci sono foto di mio padre quindi lui mio padre era 1,80 non so quanto e aveva un piede enorme per un bambino di 4 anni un 46 di 48 di piede un gigante e lui ha dei piedi enormi e quindi l'aveva descritto lo vedeva si ricordava le sue vite passate e dopo parliamo ti racconto un episodio di vite passate incredibili di mio figlio allora io faccio un corso di reincarnazione in Toscana e mio figlio stranamente mi accompagna perché lui non voleva seguirmi più di tanto mi accompagna e sulla porta del centro dove siamo andati incontriamo una coppia lui di Pisa e lei francese mio figlio aveva 22 anni e questo qui ne aveva 36 quindi una differenza grande di età e la sua fidanzata più o meno aveva più di 30 anni e si salutano ciao che bello ritrovarti come stai quanto tempo che non ci vediamo e io dicevo ma quel cacco si sono incontrati perché mio figlio non viaggiava da solo a quel tempo e ho fatto una cosa razionale noi qualche volta ho pensato andiamo andavamo a Viareggio Viareggio vicino a Pisa magari si sono incontrati in pizzeria o hanno giocato a pallone insieme ma loro si sono si sono salutati come se si fossero visti non so massimo un anno prima bene facciamo la regressione nelle vite passate e poi io faccio disegnare come si sono visti nella vita passata ed erano tre samurai tutti e tre anzi mio figlio disegna un elmetto aspetta che mi abbasso fatto così d'oro con la punta tipo gli elmetti tedeschi della prima guerra mondiale solo d'oro e io che sono una mamma a volte non gentile gli dico ma figurati se i giapponesi avevano questo elmetto e l'altro che aveva studiato i costumi dei samurai dice no c'era un clan con quell'elmetto lì allora tu pensa cos'è la memoria cosa sono le informazioni che noi abbiamo dentro e che non riconosciamo perché loro pensavano di essersi conosciuti ma anche in amore no tu non so se sei fidanzato in conti si lo so che sei fidanzato non volevo rivelarlo incontri una donna sei preso subito e hai questa sensazione di conoscerla questa sensazione che lei abbia a che fare con te il colpo di fulmine no o riconoscersi ma non è una sensazione è una memoria noi non ricordiamo la vita passata ma la nostra anima ci sta dicendo che ci siamo già trovati ecco i bambini piccoli ne hanno tantissime di queste percezioni però cosa succede immagina non adesso immagina 40 anni fa i bambini che dicevano ai genitori sai io mi ricordo le vite passate o dicevano sì Pierino continua continua a giocare no Pierino perché è una sì perché non hai la testa quadrata è una vecchia balzelletta sì Pierino continua a giocare oppure li portavano dallo psichiatra oppure li portavano dall'esorcista perché dicevano cose fuori dalla cultura fuori dalle conoscenze allora cosa fa il bambino siccome i bambini hanno bisogno di essere amati e accolti se mia madre non mi crede o mio padre non mi crede io di quella cosa non parlo più e poi me ne dimentico a scuola sto scrivendo una cosa proprio sulla diversità dobbiamo essere tutti uguali nella società Claudio dobbiamo credere tutti nella stessa cosa dobbiamo avere le stesse idee dobbiamo essere incanalati dobbiamo essere marionette e allora cosa fa il bambino che invece è diverso in qualche modo si aggrega per essere amato e quindi dimentica le sue percezioni ok io vedo che ci sono moltissime domande vorrei fare un primo giro di domande così accontentiamo anche chi ci sta chi ci sta seguendo allora Maria Dolore Selai come vedi ci chiede è possibile attribuire a cari che ci salutano dall'aldilà il sentirsi chiamare con il proprio nome pur essendo soli nella stanza sì ma non soli cari potrebbe essere qualcuno che parla di noi e noi lo captiamo telepaticamente però è possibile è chiaro che loro non usano la voce ma usano il pensiero ma nel nostro cervello il pensiero viene tradotto in voce a me è successa una cosa divertentissima stavo facendo un solitario con le carte una sera in sala da sola e sento la voce di un mio amico vivo e sento che parla 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 non sentivo cosa diceva allora il mattino dopo lo chiamo e gli dico Pierre senti ma tu ieri sera alle 11 parlavi di me sì quindi era telepatia che io ho captato quindi la telepatia è uguale tra i vivi e tra i trapassati sempre pensiero è ok Maria Dolore esatto sì poi magari ci scriverà se è rimasta soddisfatta allora Rosa Bassata invece ci aveva già chiesto prima che cosa pensa della reminiscenza questa doveva essere la conferenza stasera avrei dovuto parlare di questo la reminiscenza sono le memorie che noi ci portiamo da altre vite e ne abbiamo tutti io faccio corsi ne ho fatti tanti anche a Cagliari e anche a Oristano ho fatto qualche corso e spero di farne ancora con il lockdown finito anzi io sarò in Sardegna per un convegno Claudio in ottobre a Pula diciamolo posso alzarmi? sì sì così lo diciamo così chi è interessato e ci sta seguendo magari ti viene a sentire a Pula Elga Selvaggio il 2 o 3 ottobre ma poi lo metto sul mio sito che poi metti magari Claudio il mio sito c'è un convegno proprio sull'aldilà e io penso che farò contemporaneamente il giorno la sera prima anche una conferenza a Cagliari adesso vediamo io metto tutto sul sito se qualcuno si iscrive sul mio sulla mia newsletter riceverà oppure se non vuole iscriversi sul mio sito metto tutti gli appuntamenti sì noi abbiamo tante memorie stavo dicendo però mentre le memorie precise si possono anche sognare o chi è più aperto ha proprio dei ricordi molto circostanziati noi abbiamo delle memorie di cui per esempio perché un bambino gioca a fare il soldato e un altro gioca a fare l'esploratore e un altro gioca a fare la dama e del castello o la ballerina di fila a volte è fantasia è pura fantasia e a volte sono come delle reminiscenze i cibi che ci piacciono che odiamo io da bambina mangiavo il sale grosso no tutta la vita ho mangiato sale grosso fino a qualche anno fa che non mi ha mai fatto male tra l'altro io ho la pressione bassa e io ho avuto una vita in Marocco e andando nel deserto si mangiava il sale per compensare il sudore e per me il sale è vita e ho anche scoperto un medico che curava col sale quindi bisognerà già andare a scavare mio figlio che era un giapponese da bambino avrebbe mangiato solo verdura cruda era un crudista vegetariano e poi con l'asilo ha mangiato di tutto insomma anche perché quindi noi abbiamo tante memorie di cui non ci rendiamo conto e che viviamo come se fossero cose normali nei giochi nelle fantasie nel modo di vestirci perché una donna perché una donna si fa per esempio secondo me quasi tutte le donne che si tingono i capelli di rosso vengono dall'Irlando dalla Scozia cioè quindi io mi faccio rossa perché mi piaccio perché questo colore mi ricorda quello che sono stata e adesso vado vado molto nel personale vediamo se ci sono altre domande se no parlo troppo di me sì allora questa l'abbiamo già fatta c'è una ecco questa qui io ho la consapevolezza di avere un sensibile ce la chiede Natasha di avere un sensibile particolare ma che tengo a freno ho paura è giusto oppure bisognerebbe lasciarsi andare ma Natasha ha paura di cosa? ha paura di questa sua sensibilità probabilmente mi viene da dire che sarai morta sul rogo per aver avuto questa sensibilità molte persone che hanno paura del paranormale hanno paura o della parte oscura di aver fatto del male con la magia per esempio o possono essere finite sul rogo torturate diciamo come streghe tra virgolette pensate che l'inquisizione è durata 700 anni pensate quante persone qualche donne soprattutto sono state condannate dall'inquisizione e tutti abbiamo fatto parte molti abbiamo fatto parte sia dell'inquisizione sia di queste poverette mandate al rogo allora più che lasciarsi andare uno dovrebbe capire perché se io vado a vederla la paura non esiste più i roghi non ci sono più magari uno non so io quando ero giovane avevo delle persone che siccome mi occupavo di queste cose un po' strane aveva un po' paura come se io potessi fare chissà che cosa proprio come si ha paura delle streghe lo racconto sempre perché è divertente i miei grafici al giornale quando arrivavano dicevo ecco che arriva l'ectoplasma ma erano affettuosi quindi non era offensivo era una cosa affettuosa ma avevo delle colleghe che avevano paura di me ma io non ho mai fatto niente non ero la strega di biancaneve per dire ma le persone hanno paura e mi è capitato di trovare persone che hanno paura del paranormale proprio perché hanno avuto un passato collegato a questo mondo diciamo della magia che può essere vero o non essere vero ma può agire o non agire ma se io faccio gli spilidin per uccidere anche se poi non uccido faccio qualcosa di male comunque col pensiero più che bisognerebbe lasciarsi andare bisognerebbe capire ho capito allora un'altra domanda ce la propone Miriam Zucchiatti a me è capitato di essere respinta da un luogo fortemente respinta dopo un'iniziale accoglienza e mi è capitato proprio in Sardegna a Nuoro il mio innamoramento era così forte tanto che ho fatto di tutto per starci trasferendoli la mia vita rinunciando a molte cose ma mi sono sentita rigettata me ne sono fatta una ragione ma sono rimasta ferita mi piacerebbe sapere il suo parere allora Miriam Nuoro è una città molto difficile intanto forse è una delle città più chiuse della Sardegna Claudio senza offendere nessuno certo perché poi questo vale in molti luoghi magari non sei riuscita aprirti e non hai trovato persone che si sono aperte ma io penso anche che magari non era nel suo destino rimanere in Sardegna magari il tuo destino era vivere in un altro luogo facendo altre cose per cui chiediti chiediti cosa hai perso non rimanendo in Sardegna e cosa fai invece dove sei in questo momento forse non era la tua strada perché se no avresti trovato delle chiavi per rimanere beh io ho fatto una conferenza a Nuoro dove c'erano a malapena sei persone sette persone e a volte è molto difficile accogliere adesso la Sardegna si è molto aperta però è una è sempre stata una regione molto particolare molto chiusa dove come in Liguria lo straniero è un invasore è uno che viene a rompere adesso devo dire quasi più da nessuna parte per cui bisogna trovare delle chiavi per entrare io ho trovato lo sciamano nell'invisibile bisogna trovare delle chiavi delle persone che ci accolgano e poi ci accettino e ci introducano non è semplice non è sempre semplice dipende anche da noi però come ci proponiamo gli altri un'altra domanda come? ricordo raramente ogni esiste qualche esercizio ti sto rubando il ruolo scusa no 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 va bene tranquilla certo che esistono c'è un esercizio molto semplice che è quello di immaginare di bere un bicchier d'acqua prima di addormentarsi dicendo bevo quest'acqua per ricordare i sogni e poi prima di aprire gli occhi bevo quest'acqua per ricordarli e cercare di ricostruirli prima di aprire gli occhi quindi e poi oppure una cosa molto carina che io so e non faccio tenere un memo un registratore sul sul comodino molto meglio che una matita o una penna e ancora occhi chiusi dire ero al mare c'era la tempesta non so oppure era una bellissima foresta oppure stavo scappando qualunque cosa il nostro subconscio quando si accorge che noi vogliamo ricordarli ci aiuta e ce li fa ricordare però anche qui bisogna allenarsi non esiste niente gratis Claudio vai allora è sempre Rosalba una cara amica che è di nuoro tra l'altro per favore Claudio rivolgi questa mia seconda domanda sogno quasi ogni notte mio marito che è scomparso da qualche anno che abbraccio quasi sempre con immensa gioia nel sogno sia io che lui siamo sempre giovani sono sogni che rispondono a un mio bisogno che pescano nella mia psiche o altro e la risposta è che potrebbe essere entrambi ti faccio una domanda Rosalba quando tu apri gli occhi hai la sensazione che sia stato vero questo sogno perché quando un sogno è psichico svanisce non ce lo ricordiamo più diventa lontano diventa abbiamo proprio la percezione di aver sognato quando il sogno è lucido quindi vero cioè succede qualcosa non lo dimentichiamo più e a volte ha anche colori più vividi emozioni più forti e la sensazione proprio che l'abbraccio sia stato vero certo non c'è una risposta sicura al 100% però ci sono degli indizi bene adesso magari vediamo al prossimo giro se ci saranno altre domande però io ti vorrei fare una domanda io adesso se fosse possibile poi magari rispondiamo anche a Maria Dolores perché vorrei parlare quando siamo attratti da un luogo è possibile che ci abbiamo vissuto lì punto perfetto ok volevo arrivare all'argomento che stavi trattando tu prima del discorso dei capelli rossi perché ci ricordano delle vite passate perché vorrei entrare anche in un altro libro che tu hai scritto che è storie di rincarnazione adesso magari non si vede bene perché è luminoso come tutti i tuoi libri storie di rincarnazione perché ricordiamo che tu fai ipnosi regressiva e quindi consente alle persone anche di ritornare nel loro passato mi piacerebbe che tu perché nel libro poi lo tratti di persone che avevano anche dei piccoli disturbi che ripercorrendo le loro vite hanno capito perché avevano questi fastidi quotidiani questo è l'ultimo libro 12 casi di rincarnazione che tu hai presentato in Sardegna due anni fa direi e poi ce n'è un altro che è rincarnazione è una vita è un destino è più teorico sono veramente solo 12 casi veri ah c'è tutto insomma io ho tutta la tua bibliografia non mi manca niente wow sei organizzato beh la tua libreria che io ho conosciuto anche il libraio ho perso la domanda sì stavamo parlando dei 12 casi di storie di rincarnazione quelle sono cose vere ah no mi dicevi che si possono risolvere allora noi siamo una entità che scende in un corpo ma nella nostra anima psiche campo l'anima potrebbe essere anche considerata dalla fisica un campo di informazioni in questo campo di informazioni noi abbiamo non solo tutte le memorie di questa vita ma ci portiamo anche le memorie delle vite precedenti anzi secondo il Dalai Lama detto 40 anni fa le memorie sono nel nostro DNA non sul piano biochimico ma sul piano energetico un fisico che è Sharon che è stato un grande fisico che io ho letto negli anni 80 lui diceva che gli elettroni sono particelle eterne e dotate di memoria quindi noi siamo corpo mente e spirito la nostra parte spirituale non visibile porta queste informazioni allora per esempio prendiamo le paure vogliamo che io abbia paura dell'acqua o del fuoco ma in questa vita non ho mai avuto dei problemi né nel ventre materno né ho rischiato di affogare né in vasca né in mare mai non ho mai avuto problemi con l'acqua allora è molto probabile che io sia affogata quando io vado a rivedere questa vita e mi accorgo e rivivo la morte che non è mai drammatica perché non è drammatica della morte è drammatica la vita questa memoria che siccome consolidata è come un ghiacciolo si scioglie e io non ho più paura perché non è vero che io ho paura dell'acqua io ho paura dell'acqua nel 1220 quando sono affondata col brigantino e oggi non c'è più ragione quindi quella memoria drammatica si scioglie e io ho casi stupendi Claudio di paure meravigliosi che racconto sempre non so è venuta una persona da me che doveva andare a New York aveva il terrore dell'aereo però non poteva non partire perché doveva firmare un contratto importante viene da me lui non sapeva neanche se crede alla rincarnazione o no ma era l'ultima spiaggia e rivive di essere stato un milita un pilota americano abbattuto dalla contraerea a Berlino durante l'ultima guerra mondiale il suo aereo prima perso le ali che si sono incendiate poi è caduto a vite e lui si è schiantato al suolo ed è vissuto questo lunghissimo momento tra il volo e lo schianto che quando noi siamo in una situazione drammatica il tempo si espande quindi magari è caduto in 5 minuti ma è come se fossero stati 10 ore a livello psico è andato a New York è tornato e la paura non c'era più e ne ho avute tante una mia una ragazza aveva paura degli squali anche in piscina anche in Svizzera quindi per assurdo e in una vita precedente è stata divorata era un pescatore caduto in mare divorato da un squalo e di storie così ce ne sono infinite la paura della tortura la paura della notte la paura degli animali agli animali potrebbero essere per esempio il serpente un simbolo il serpente rappresenta la sessualità maschile rappresenta il nemico infido quindi un collega che trama le spalle senza farsi vedere quindi ci sono anche delle spiegazioni psicologiche ma quante persone sono morte a causa di un serpente nelle foreste nelle giungle nelle vite passate poi ci sono anche i ricordi i talenti noi non ricordiamo solo le cose negative noi ci portiamo anche quello che abbiamo imparato i nostri talenti tu pensa a Mozart che a due anni ha scritto le note sul rigo musicale a tre anni suonava e a cinque faceva i concerti impossibile impossibile non è possibile vuol dire che aveva delle memorie poi ha studiato però aveva già la musica dentro pensa ai pittori c'è a Milano un bambino che dovrei intervistare che fa sei anni fa dei quadri come Pollack che vende addirittura a New York e ci sono delle cose vuol dire che era un pittore nella vita precedente ci sono tante cose che noi ci portiamo dietro tu scrivi da bambino scrivevi Claudio tu scrivi poesie sì 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 e anche da ragazzino sì sì specialmente alle elementari è impossibile vuol dire che venivi già da una precedente esperienza poi non importa se sei stato un poeta famoso o uno che andava nei salotti del settecento a leggere poesie ma se avevi la poesia dentro vuol dire che te la porti come tua eredità genetica ma più carnica diciamo ed è molto interessante perché noi possiamo riparare al passato anche una cosa più difficile le paure si trovano subito pochissime sedute mentre i traumi mentre è più difficile con i conflitti perché sono più complessi cioè io non vado d'accordo con mio padre esempio non è così non vado d'accordo con mio padre lo odio e odio il genere maschile e per esempio io avevo dei problemi con con gli uomini non tantissimi sono sposata ho fatto un figlio però avevo dei problemi quando ho rivissuto di essere morta in campo di concentramento violentata ho detto mi sono resa conto che questo pregiudizio verso gli uomini poco seri gli uomini violentatori se vuoi veniva dall'esperienza del passato e mi sono accorta che non abbracciavo mai in maniera sciolta mettevo i gomiti davanti perché mi era rimasta la paura dello stupro che non non importa se sono passati cent'anni mille duemila tutto quello che non è risolto rimane dentro di noi ma quando lo vediamo si scioglie quindi possiamo vivere sempre più leggeri a mano a mano che risolviamo quello che abbiamo dentro sia di questa vita ovviamente sia delle vite passate la reincarnazione è o per tutti o per nessuno è in tutte le religioni c'è scritto anche nel Vangelo anche se non c'è la parola reincarnazione chi dice la gente che io sia Rabbi c'è chi dice che tu sei Elia no Elia è già tornato Elia è Giovanni Battista non c'è la parola reincarnazione esatto ma questo uomo è nato cieco ma è colpa sua dei suoi genitori come fa un bambino nascere con una colpa quella della della sì della Valle dell'Ele non si chiama quella originale ce l'abbiamo tutti quindi non è abbastanza se è colpa sua vuol dire che nelle vite precedenti ha fatto qualcosa per cui doveva passare da quell'esperienza però mentre quando io faccio da 40 anni questa cosa mentre una volta c'era una paura a Palermo mi hanno chiesto se si va all'inferno se si crede nella reincarnazione ma io conosco anche dei sacerdoti che l'accettano dei teologi e oggi sono i bambini i ragazzi non hanno più problemi possono anche non crederci ma ci sono altri ragazzi che invece hanno delle conoscenze dentro di sé che non vengono dalla famiglia delle percezioni delle percezioni che c'è vita nello spazio che potremmo incarnarci anche su altri pianeti questa è una cosa molto divertente e quindi e quindi il mondo si sta aprendo sta diventando villaggio globale salvo poi stavo scrivendo un articolo per quel ragazzino che si è ucciso Saeed che quel giocatore di calcio ha 20 anni nero etiope e aveva lasciato scritto in un diario che era trattato malissimo e io stavo ragionando ma tutti siamo stati negri gialli rossi tutti si è stati uomini e donne tutti siamo stati buoni e cattivi perché io devo non devo accettare un fratello ci sono tante ragioni ma siamo tutti fratelli perché non riconoscerci difficile difficile ci vuole cultura ci vuole sensibilità non si nessuno di noi è diverso da un altro cambia un po' la cultura cambiano alcune credenze ma il cuore delle religioni è uguale dappertutto e la cultura è quella poi se io nasco buddista è perché devo fare un percorso leggermente diverso o induista o nell'islam ma il cuore dell'islam è l'amore esattamente come l'India esattamente come il Cristo non è diverso è diverso come gli uomini usano la religione vabbè hai parlato no 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 hai parlato prima di reincarnarsi in altri pianeti tu hai fatto da poco dei convegni online che erano intitolati UFO e Alieni se lo vuoi parlare allora sono due chiavi diverse perché in questo convegno che ho organizzato adesso in giugno hanno partecipato soprattutto ufologi del CUN o persone che hanno parlato soprattutto di cose tecniche di avvistamenti di tecnologia pare che i microchip lo stealth tante tecnologie d'avanguardia che noi abbiamo vengono dalla collaborazione tra gli eni e servizi segreti soprattutto in America ma forse non solo per cui è stato un convegno un po' tecnico perché io non avevo mai parlato di UFO sul mio giornale e quindi e però ne farò un altro e per esempio così aggancio le due domande io da dieci anni facendo le regressioni ho delle persone che hanno presunte dico presunte perché non c'è verifica mentre c'è per la reincarnazione presunte memorie di vite su altri pianeti e c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo divertito moltissimo quando io ho fondato il giornale quindi nel 2000 quindi più di dieci anni fa nel 2012 sono andata a un convegno a Cervia dove c'era Greg Braden che è un antropologo non so se tu lo conosci è molto famoso ha avvicinato tutte le culture del mondo e a un certo punto ha detto io ero in prima fila ha detto c'è qualcuno di voi che crede di venire dallo spazio quindi di aver vissuto da qualche altra parte io ho alzato la mano poi mi sono voltata e tutti avevano la mano alzata e la platea che era fatta di ragazzi i quarantenni erano vecchi e tutti sui 30 35 anni la media avevano tutti la mano alzata questo vuol dire o che eravamo tutti matti che potrebbe essere o che si sta aprendo la mente e noi stiamo cominciando a capire le leggi dell'universo forse e forse ci stiamo aprendo alcune persone riescono a capire che ci sono delle leggi universali quando ero piccola gli alieni rappresentati sullo schermo erano simbolicamente i russi erano il nemico quindi i russi simbolicamente e nessuno credeva agli alieni no non è vero pochissimi erano pochissimi forse c'era Isaac gli scrittori di fantascienza i primi scrittori di fantascienza Verne Giulio Verne terra alla luna aveva scritto delle cose che si sono poi avverate 200 anni dopo sicuramente era un veggente però nella mentalità comune non se ne parlava oggi i bambini se tu chiedi a un bambino vuoi andare nel spazio subito imbarcami che parto c'è proprio abbiamo stiamo girando pagina qualcuno ovviamente non tutti e quindi è possibile che alcune anime che hanno già vissuto in altre parti dell'universo si incarnino in un corpo umano ok ho capito si mi piace sì sì mi piace molto interessante andrebbe sviluppata in una trasmissione molto lunga sì sì come facciamo a verificarla eh no non la possiamo verificare mentre la reincarnazione può essere verificata perché per esempio io ricordo un luogo lo descrivo poi vado a caso viaggio qui qui è un'altra cosa del caso che ha aperto questa nostra chiacchierata per caso vado appunto in Marocco in Scozia in India e riconosco i luoghi che ho anche descritto quindi non è che me li invento in quel momento oppure l'altro giorno una persona ha rivissuto di essere uno scienziato ha detto un nome uno scienziato americano del settecento un naturalista del settecento ha detto un nome che lui non aveva mai sentito siamo andati su Wikipedia e quel nome esisteva ed era esattamente la figura che lui aveva rivissuto di essere quindi con la reincarnazione a volte abbiamo delle verità oggettive bene se non ci sono altre domande almeno non mi pare di averne viste altre al momento ti volevo volevo che tu parlassi un attimo ecco qua c'è sempre Miriam Zucchiatti che ecco lei dice se posso aggiungere all'inizio avevo fai tu fai tu allora la città dove non voleva stare sta facendo delle cose bellissime e mi è possibile che mi sia immaginata quelle iniziali meravigliose sensazioni no può darsi che la Sardegna vibri con te può darsi è una terra magica la Sardegna io verrei non so se a vivere ma verrei spesso e quindi tu sei entrato in contatto con una frequenza che va bene per te hai sentito qualcosa ma non era nel tuo destino rimanere perché se no non avresti fatto quelle cose che adesso stai realizzando ciao Miriam allora probabilmente ecco qualcuno dice che chi ha memoria di vite passate ha ospitato dentro di sé un alieno che ha attraversato diverse età è quello che hai detto tu ce lo dice Monica Monica io non vorrei espormi troppo ma credo che sia vero ok basta Maria Dolores di nuovo dice ed è vero che possiamo incarrarci su diversi pianeti l'hai già detto praticamente ah ho fatto anche un film in questo convegno ho coprodotto un film di un rapimento alieno che può essere anche comperato ecco allora non ci sono altre domande perché se no Francesco ti avrei proposto io vorrei me ne abbiamo parlato prima nel fuori onda che tu vuoi dedicare un articolo a Fabio a adesso stavo dicendo un nome che è diverso da quello che avevo pensato a Battiato a Franco Battiato scusami un piccolo lapsus perché tutti sanno le canzoni che ha scritto insomma la sua passione la sua diversità e l'esperienza che ha fatto non so se ci vuoi parlare anticipare qualcosa su questo articolo che scriverai su Battiato è difficilissimo per me perché io non sono una critica musicale discografica e lui è stato un personaggio geniale adesso tutti lo esaltano ma non credo che abbia avuto una vita facile io l'ho incontrato ero molto giovane mi occupavo di musica e sono andata a intervistarlo nel suo camerino dopo un concerto e volevo parlare di Sufi perché lui seguiva il Sufismo e lui invece pensava che volessi fargli un'intervista sulla sua musica e si è tutto aveva la febbre tra l'altro aveva tirato un concerto si è tutto irrigidito perché io ero una donna allora probabilmente è possibile che lui avesse qualche problema con le donne quando eravamo molto giovani e ha ricevuto in camerino un compagno Sufi e mi ha proprio snobbata l'ho rincontrato in aereo recentemente due anni fa ci siamo trovati uno di fronte all'altro cercando il posto e gli ho detto Franco tu sai che ci conosciamo e lui mi ha detto sì sì lo so e poi però non volevo rompere le scatole lui è stato geniale è un uomo un artista che ha attraversato tutti i generi musicali che ha girato il mondo che ha fatto un percorso iniziatico direi quasi mistico ha fatto delle musiche molto diverse ha tinto da tutte le culture del mondo ha tinto dalle musiche folcloristiche di vari generi ha mischiato i generi e adesso che se n'è andato tutti gridano al genio non credo che sia sempre stato così credo che abbia avuto la vita abbastanza difficile però lo ricorderemo tutti e oggi per scrivere l'articolo stavo ascoltando i suoi dischi per poter ricordare stavo sentendo la cura ci sono delle ci sono delle canzoni bellissime ha cantato modestamente ha cantato ho visto che ha cantato anche canzoni di Endrigo anche canzoni di altri autori anche il melodico perché lui non ha mai rifiutato i generi cioè lui anzi li ha anche mischiati spesso il centro di gravità permanente aveva queste frasi attingeva dalla filosofia dalla fisica dalla religione dalle religioni dalla cultura era un uomo a 300 era un artista a 360 gradi e mi spiace un po' di non averlo più rincontrato ma non era nel mio destino questo è il senso reale va bene ma noi l'abbiamo finito abbiamo fatto un'ora di chiacchierata abbiamo aperto molte porte le altre se ne apriranno perché non ci ti avremmo sicuramente non so se quest'anno ma nei prossimi festival sicuramente tornerai e ci illustrerai lo so ti trasformo in una papera esatto tornerai comunque per chi ci ha seguito se vuole rimanere in contatto con Manuela si iscrive alle sue newsletter che troverà su carmanews.it la potete seguire anche nei suoi profili facebook quindi certamente ora non è come quando ti avevo scritto la lettera io nel 1989 e ora se scrivete a Manuela chiaramente in base ai suoi impegni sicuramente vi risponderà più velocemente grazie grazie mille la prossima volta raccontiamo come ci siamo conosciuti anche se l'abbiamo già detto sì 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 esatto esatto abbiamo detto esatto esatto va bene allora esatto Manuela ti ringrazio sei stata gentilissima e esaustiva come sempre grazie di tutto no grazie a te io l'invito è per tutti quanti a seguire l'ultimo appuntamento del Libere Evento Streaming che sarà il 22 giugno e poi ci vedremo ai primi di luglio in presenza finalmente magari non ci potremo ancora abbracciare ma sicuramente potremo guardarci negli occhi grazie a tutti e buona fine domenica e certo noi ci abbracciamo poi gli altri facciano quello che vogliono ciao